Però non mi ricordo più cosa chiede a Dio. Che bisogna imparare a parlare, bisogna stare attenti a parlare. Un prezzo, una volta che lo incontrò, a sciare, perché i prezzo vanno anche a sciare, se hanno tempo si pule, no? E mentre il calcio si inviava, mi ha detto, Dio scia con voi. Beh, se non giremmo, me lo mi avessi. Pissavo a me, che anche Dio mi sa sciare. So che a doppio capì, chi va mia capì, a parlare, bisogna stare attenti. Anche una cos'è, che una volta mi ha detto, a chi va bisogno, ha detto, ah beh, Maria, mi si fa pieno di grazie, dice, no, le tre ci amano la sia. Cioè le parole. Per esempio, noi tracciamo un passio di carne, ok? Una carne e un pezzo, si può dire, no? Una carne e un pezzo, no? Un pezzo e un pezzo, si può dire. Ma una carne e un pezzo, si può dire. Una merda e un pezzo, sì. Un pezzo e un merda, anche. Per dire, gli abitanti, gli abitanti, a New York gli abitanti, ma che va, si può nascere solo più pochi, ragazzi. La polimia, a essere abitanti. Gli insetti, al dì, anche ero un mochi d'insetti, non c'era un insetti, come fermi a essere un mochi? No? Un mio, pe. Un mio, pe, me. Me è un mio, pe. Dette il tuo, pe. E la loro è il suo, pe. Posso imparare un garage, per esempio. Un garage, non un garage. Se la grossa, garagio. Perché se le c'è il caldort, ma già, bravo! Ma che non si va un calcadetto con il soffiolo. Guarda, quelli lì imbroni. Al dìs. Babbo, ma che bronini? Queste che le sto più da dimonti, per fare. Dìs, che bronini? Al dìs. I broni rossi. Al dìs. Ma si è bianchi. Al dì, ma le perché non ho ancora l'air di? Ma insomma, che colorini che il bronini? Oh! Possiamo che il pan fresco le celti? Mi dite d'accordo, ragazzi. L'autunno caldo, taftunghe fresco. Al pan fresco le celti. Per esempio, un maiale piccolo, come il same. Maialetto. 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 Eh. Quindi è il doromaglio. Al polmier. Un siroto. Cerotto. Quello è giusto. Perché si chiama così? Perché lo metti lì dove? Cerotto. Cerotto. Maialetto. Maialetto. Lavoro. Che mi fanno andare in basti. L'abitante del bagnole siamo bagnolesi. E qui dal Tirol Tirolesi. Quindi, a stagliare anche a me. E la mia capire. Ma che è un dottor che ha il cadetco con un male. a dire, a dire, ah, niente. A sesso. Quella è la mia capilla. Non è che? La vendola è che? Perché è l'eretica del bosco. Non è stare a sesso. Bisogna stare attenti a parlare, ragazzi. Al meccanico. Al toccanico. Ma ti dammi la piantina di Reggio. Le catture da Rusmanè. Non è che vi manda la cartina di Sguarda Milano. Con la ferra che sei. Me, per esempio, ho risolto un problema. A Via Danna di 108. Il mio vicino del piano di sopra. Il mio vicino del piano di sotto. Me c'hanno i soprini, i sottini. I destrini, i sinistrini, i frontini. E la chiamocura. Da volte ha disegno partire in quarta. Prova. Sfermo la macchina. Bambino. Bisogna partire in prima. Anche. Guardate, anche la parola esentasse lo dice la parola. Cioè, chi mette il tasse? L'esene. Cioè, che parliamo del professore, eh? in la famiglia, per esempio, è possibile che il masch e la semia siano babbuino. Va bene, la mamma la salla mammoina. Mi è una babbuina. e che ha sempre ragione i maschi. Al polmio, un peder dire con la fiola trovati un buon partito. Se il partito è il caso mio. mio amico gli ha detto con il suo figlio sono stanco di un figlio scappolo. Voglio che ti accoppi ma se mi sei. Guardate. i nomi, i nomi, i nomi delle persone. Mi mangio la mia gaudio. Vuol dire gioia. Sono sempre all'ospedale. Ma il fratello prospero. Che vuol dire che il fa di affari mi è ancora finito di pagare i debiti. Cioè, il nome adesso è di moda Gian Maria Gian Carlo Pier Silvio Pier Mario Ma per caffè mia Gian Gianni è Pier Piero. Vuoi cambiare nome? Vuoi chiamare Gian Maria Enrico Salerno Gian Pier Silvio Maria Umberto Ma che mi ha bisogno di specificare? Umberto Allora deve chiamare Gian Gianni un Franco e mi è due se in due me come fammi Duberto che è un qualche dunque si chiama Duberto avuto a Camia al più vecchio che era mio padre lancia me Antonio e l'era il primo con i miei pali che lancia ma avrei al secondo al secondo lancia me primo se vuol dire che me pedro era un corin che 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 l'ultum al sest assieme a prosper l'era l'ultum e l'è morto per l'è morto per primo ed infatti primo l'è col che scampè di più perché al suo posto era morto proprio se sto mi attenti ai nomi ragazzi quando mettete il nome a un bambino o una bambina ragionateci in co come in co anche se siete del sud come si fa a chiamare una bambina assunta me non chiuso tanto chiuso un libero l'ingalera fermo al corimmuoto giusto le maniconi Valentino ciappa una multa tre cletri perché va forti come Rossi Bruno le biondi come la Marini felice con l'esaurimento Franco ha gandeduan per falsa testimonianza ha chiamato un ragazzo rosso lasciamo a Andrei le sese gambe in due che vaga pure fedele non siete fedele ma io sono fedele è sempre la brusetta massimo le ilton e cinquanta fortunato le morta giove goffredo goffredo le condannè a portare al maio in tutta la vita goffredo era come calma che incontra l'uomo delle nevi e dice io una paura dell'ostia fa permette il depravando goffredo e l'uomo delle nevi fa goffredo anche a me però resisto mamma mia come ha fatto a chiamare un fiol qui rino a corresa che san qui rino come ha fatti chiamare un fiol qui rino sembra che sia la radio qui rino qui paolo ciao pronto giulia giulia quando la spresenteva piacere giulia e su marina fa piacere guido ah lei è l'autista no sono su marina al massimo che non sono coppie se le cani se le cani e se le cani in niger me carbone che hanno una fiola lanciamento chiara dal resto ho anche di bianca lanciamento a nerina che bisogna stare attenti a come c'è un mami fiol perché fai via caldito e via me es nano